Non la seguo molto, sinceramente, però dalla parte in cui sta preferisco loro, sinceramente. A me proprio non mi piace, però è quello che ci serve all'Italia, nel senso che gli italiani sono stupidi. Cioè è un paese di scemi l'Italia. Però l'Italia deve andare giù, perché più va giù è meglio è. Così gli italiani si svegliano e possono cambiare qualcosa. Io non sono contenta, non l'ho votata, però è una democrazia. Grazie. Perché noi costruiremo un governo saldo, coeso, con un forte mandato popolare che rimarrà in carica per cinque anni. Piaccia o no, alla sinistra. Piaccia o no, alla sinistra. Grazie a tutti.